La casa natale di Tiziano resterà aperta per tutta l'estate e poi chiuderà per l'avvio dei lavori di restauro. La magnifica comunità di Cadore ha deciso di mantenere visitabile l'edificio storico durante la stagione turistica per poi procedere con le operazioni di interesse architettonico a partire dal 1 settembre. I lavori sono previsti dal progetto Interreg Musei per Tutti tra Innovazione e Tradizione e, spiega una nota, prevedono una serie di interventi esterni e interni necessari a interventi di restauro conservativo complessivo che ne migliorino le condizioni storico-conservative associato alla realizzazione di alcune opere funzionali che lo rendono più efficiente e fruibile da parte di un pubblico più vasto in ottemperanza alle attuali indicazioni legislative, culturali e sociali. L'apertura del Monumento Nazionale fino al 1 giugno avverrà su prenotazione o richiesta presso il Museo Archeologico Cadorino per poi prevedere un'apertura giornaliera nei mesi di giugno, luglio e agosto. Dal 1 settembre, spazio alle ditte incaricate. Siamo in fase di avvio delle procedure di assegnazione dei lavori, riafferma il presidente della magnifica comunità Renzo Bortolot. In questi mesi abbiamo ricevuto moltissime richieste e allo stesso tempo l'aver posticipato alla stagione autunnale i lavori non comprometterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati.